Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alfio Giomi, è stato ricevuto ieri nella sala giunta del comune di Pordenone. Erano presenti l'assessore regionale Elio Deanna, il presidente della provincia Alessandro Ciriani, il presidente provinciale Fidal Ezio Rover ed il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Giomi è rimasto particolarmente sorpreso dalla recente costruzione che ospita l'innovativa pista di atletica coperta presente all'interno dell'impianto sportivo cittadino Mario Agosti. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Avere avuto come ospite Giomi per vedere il nostro impianto indoor e parlare della possibilità di avere qui un centro nazionale e internazionale per la preparazione di atleti di alto livello, voi capite che dà un segno di inizio al 2013 che è molto incoraggiante per il mondo dello sport pordenonese e anche regionale. Lavorare poi su questo fronte in sintonia con Regione, con Elio Deanna e con la provincia, con Alessandro Ciriani, dà anche il senso che dal punto di vista istituzionale ci teniamo a portare qua persone, atleti di grande valore per far sì che gli investimenti che sono stati fatti anche dall'amministrazione precedente in modo molto illuminato possano essere utilizzati al meglio. Grazie. 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 Grazie.